buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta sul mio canale oggi vi voglio proporre un allenamento ad alta intensità ma differente da tutti i precedenti perché è basato solo da due esercizi non mi anticipo nulla vi dico solamente che il warm up è fatto solo da tre minuti di jumping rope quindi tre minuti di salto con la corda per chi non sapesse saltare non è un problema fa tre minuti di jumping jack quindi sapete l'esercizio coordinato di braccia e gambe apertura e chiusura se non riuscite a fare tre minuti continui potete fermarvi recuperare quei 20 secondi e ricominciare da capo benissimo ed eccoci qui alla fase centrale dell'allenamento come vi dicevo poc'anzi l'allenamento che vi ho proposto quest'oggi è un allenamento basato su due esercizi vi serve la corda per fare il jumping rope o nel caso in cui non sapete saltare con la corda va bene il jumping jack e poi il secondo esercizio è il burpees quindi andremo a fare il primo round da 200 jumping rope e 5 burpees poi andiamo a scalare i jumping rope che diventano 150 e aumentiamo i burpees che diventano 10 100 jumping rope 15 burpees e alla fine concludiamo con 50 jumping rope e invece 20 burpees grazie a tutti Grazie a tutti. Ed eccoci giunti alla fine. Sembrerebbe che sia così, ma in realtà non lo è, perché alla fine del vostro allenamento che vi ho dato a scalare dovete farmi un cash out. Ebbene sì, cash out significa quest'ultimo rush finale di un altro esercizio ripetuto una sola volta, quindi mi andate a fare 100 sit up. E così si conclude l'allenamento di quest'oggi. Come sempre desidero i vostri commenti o qui sotto sul canale YouTube oppure privatamente sulla pagina Instagram e Facebook, ma ci tengo a sapere la vostra. Ciao ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti.